Buongiorno a tutti, sono Alex Ranghieri, gioco Bicuole, stay tuned per vedere il backstage dell'incontro Lupe Nicolai contro Ranghieri Carambola. Forza Ranghieri! Facciamo i pensi con lo stacco! Dai con questo stacco! BINGI! E spunta anche lui, è spuntato anche lui, il mio socio, Adrian Carambola. Siamo arrivati, siamo pronti, siamo pronti. La Skyball? Stiamo per riuscire alla Skyball! Non è fuggilato, non è fuggilato! Sta per iniziare... Cosa sta per iniziare, Lupe? Che sta iniziando? Meglio che non lo dico! Ragazzi, conclusione di una giornata con il takeover di Instagram per l'Italia Team di Alex Ranghieri. L'abbiamo perso, ragazzi. L'abbiamo perso e quindi chiudiamo così. Grazie. Grazie.